Oggi ci giocavamo in primo posto, quindi è una partita importantissima. La chiave, non lo so, sapevamo che sarebbe stata una battaglia e abbiamo tutti dato l'anima in campo e forse è per questo che abbiamo vinto. Oggi penso che ha vinto e che ha avuto più voglia di vincere. Qual è il segreto di questa squadra che chiude la regular season in vetta? Squadra rinnovata completamente, a gennaio sono arrivati Polito e Castiglio e abbiamo completato la squadra. Il segreto è che siamo un grande gruppo, siamo anche fuori dal campo, siamo proprio amici, siamo molto uniti e questa è sicuramente una bellissima cosa che ci aiuta anche in campo. Ci sarebbe bastato poco per portarla a casa. Abbiamo sbagliato tanti tiri davanti al portiere che in queste partite non vanno sbagliati, i particolari fanno la differenza e ancora di più quando hai occasione di fare dei gol facili. Quindi quello senz'altro, anche qualche passaggio a vuoto in difesa nonostante Michele Rossi in porta abbia parato tanto. Secondo me è principalmente questo. E' un Romagna che però, al di là di un lieve svantaggio dovuto al bonus di punti con i quali si arriva alla pull playoff vuole essere ancora tra le protagoniste della Serie A? Senz'altro, niente ancora deciso, sicuramente sarà più difficile arrivare primi però noi continuiamo a lavorare per questo e metteremo tutto per provare a riuscirci.